Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Ebbè, leggiamo insieme in Luca capitolo 12, verso 12. Bellissimo, mi piace. Perché lo Spirito Santo, S maiuscola, lo Spirito di Dio, che è Dio, vi insegnerà in quel momento stesso quel che dovrete dire. Qui dice vi insegnerà, cioè ci dà delle indicazioni che dobbiamo eseguire, è così. Poi leggiamo in Giovanni 14, 26, anche qui. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, un'altra volta, guarda cosa ripete, vi insegnerà ogni cosa, e qua fa di più. Vi ricorderà anche tutto quello che vi ho detto prima. Tutto ciò che abbiamo memorizzato della parola del Signore, al momento opportuno ce lo ricorda. Molte volte troviamo nella parola del Signore, si ricordarono, si ricordarono delle parole che Gesù aveva detto, si ricordarono. Perché il vento dello Spirito Santo porta energia spirituale, porta luce e ci fa ricordare. Bellissimo. Allora ci insegna e ci fa ricordare ciò che dice la parola di Dio. Ho degli eventi che sono importanti. Bellissimo. Leggiamo il verso 17 dello stesso capitolo. Mi piace la parola del Signore perché ci porta per la mano, proprio col cucchiaino ci fa capire le cose. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Oh, alleluia, bellissimo. Dimora con voi dentro e sarà con voi per assistervi. È una consulenza continua, meravigliosa. Ma dove c'è un istruttore, un insegnante che resta così con una persona 24 ore al giorno? Solo i credenti abbiamo questo privilegio. Teniamone conto perché è speciale, è meraviglioso. Dimora con voi e sarà in voi. Comprendiamo cosa stiamo leggendo, sì. Nel capitolo 16, verso 13, dice ancora di più. Leggiamo. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli vi guiderà in tutta la verità. Cioè, qui è ancora più forte. Hai visto come si guida un cieco? Lo prendono per la mano. Vai di qua, vai di là. C'è il gradino, c'è il pericolo. Attenzione. C'è un albero, non ci sbattere vicino. Ti rendi conto che cosa fa lo Spirito Santo dentro di noi? Non l'avevi mai pensato? Beh, perciò siamo qui che è così. Se non lo sapevamo prima, lo sappiamo adesso. Egli vi guiderà in tutta la verità. Noi credenti, come i discepoli quando camminavano con Gesù, abbiamo il più alto livello che può esistere sul pianeta di aiuto sul pianeta Terra, di aiuto per crescere. Quando i discepoli erano con Gesù, 24 ore al giorno stavano con Gesù perché avevano lasciato tutto. Ora io vi mando colui che mi sostituisce e farà quello che abbiamo letto e nella Bibbia c'è molto di più. Perciò abbiamo un assistente continuo presente dentro di noi che si erge, parla alla nostra coscienza, parla al nostro essere, parla alla nostra conoscenza, dove possiamo arrivare, indicandoci passo dopo passo, ci guida. Siamo delle persone privilegiate. Ci ha mai pensato? Leggiamo, parliamo di Gesù adesso. Leggiamo quale privilegio aveva Gesù. Gesù è venuto in terra come noi, è nato dalla Vergine Maria, è nato come uomo e guardiamo come si è sviluppato, si è sviluppato come noi. Leggiamo in Luca 2,52. Gesù cresceva in sapienza, in statura fisicamente e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Il concetto è questo, vuol dire che lui applicava la parola di Dio e faceva la sua volontà. lui dice per questo sono venuto nel mondo, per fare la volontà del Padre mio. Allora quel piccolo bambino che cresceva, si sviluppava e così cresceva, aveva un solo scopo da fare. Era uomo come noi, come sono cresciuto io, come sei cresciuto tu. Però lui era una persona consacrata a Dio che faceva solo quello che addempiva la legge nella sua vita. Man mano che imparava nella sinagoga, imparava la legge, la metteva in pratica nel giusto modo e cresceva in sapienza e faceva la volontà di Dio. applicava i principi divini nella sua vita. Leggiamolo insieme in Giovanni 6,38. Così impariamo qualcosa oggi. Semplice. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Qui c'è il mistero dell'incarnazione che Gesù ha lasciato, eh, come si canta a Natale, tu scendi dalle stelle, o re del cielo, eh? È venuto per fare questo. Però, fin da bambino, applicava i principi e la sapienza divina nella sua vita. Bellissimo. Signore, grazie. Signore, ti benediciamo. Per fare la sua volontà, abbiamo letto. Leggiamolo un'altra volta. Perché sono disceso dal cielo per fare, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. allora guardiamo questo bambino che, signore aiutati, Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini e faceva la volontà di Dio. Bellissimo. Ora, se noi abbiamo questo privilegio, lo dobbiamo a Cristo e questo ci dice la scrittura. In primo Corinzi 1,30 dice se noi abbiamo questa posizione di cristiani ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, perché la sua sapienza la trasferisce a noi, la sua giustizia la trasferisce a noi, la sua santificazione la trasferisce a noi e redenzione che ci trasferisce nel Regno dei Cieli. Bellissimo questo. Questo fratello non segue parole di vita, perciò chiamo. Signore aiutaci. Ed è per mezzo di Lui della Sua morte e risurrezione che Dio ha mandato lo Spirito Santo sopra di noi. Perché prima non era così per tutti, erano delle persone chiamate da Dio che decideva Dio, mentre adesso dopo la venuta di Cristo lo Spirito Santo è nella Chiesa sui credenti, su noi. e infatti Gesù dice quando parlava della sua crocifissione, della sua dipartita, della sua morte, della sua risurrezione, dice in Giovanni 16,7 Egli vi è utile, eppure io vi dico la verità, loro si dispiacevano che Lui doveva morire, parlava della morte e Lui dice no, no, aspettate, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò, devo completare il sacrificio, il sacrificio veniva portato nel luogo Santissimo, veniva accettato, scendeva il fuoco, Dio approvava, così Lui ha completato l'opera del sacrificio completo, Maria lo voleva toccare dopo la risurrezione, Gesù disse non mi toccare perché non sono ancora salito dal Padre mio al Padre vostro, non ho ancora portato il sangue davanti al luogo Santissimo nel cielo, Lui col corpo glorificato nel cielo è stato poi chiuso tutto Signore grazie lo Spirito Santo dimora con noi adesso giusto leggiamo in Giovanni 14 17 sono piccoli passaggi che ci aiutano tu quei versi che ti servono segnali perché noi li evidenziamo proprio perché tu possa poi comprendere quale grande mistero e quale opera il Signore ha fatto in nostro favore leggiamolo insieme lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede non lo conosce voi credenti nati di nuovo lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi cosa fa lo spirito santo dentro di noi beh guardiamo un piccolo rigo che ci aiuta a comprendere in Luca 12 12 dice lui vi insegnerà mi piace essere chiaro perché la scrittura più semplice di così lo spirito santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovrete dire prima che lo diciamo lo porta nella nostra mente giusto vuol dire che lui parla nel nostro essere nella nostra mente e ci dà direttive e noi di conseguenza possiamo esprimere fuori quello che ci dice oppure dobbiamo azionare alcune cose che dobbiamo fare in materia di pietà che cos'è la pietà e tutto ciò che sono i servizi che si fanno per completare l'opera anche in pratica delle cose sacre cosa fa lo spirito santo ci insegna come dobbiamo fare in quel momento tutte le volte molte volte ci parla prima altre volte ce lo dà man mano che camminiamo insieme Gesù cresceva in Luca 2 52 leggiamo un'altra volta vogliamo andare piano che chi va piano va sano e va lontano Gesù cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini Gesù cresceva vuol dire che lui applicava la parola di Dio e faceva la sua volontà ora la parola di Dio parla a noi quando noi siamo nati di nuovo che cosa dobbiamo fare dobbiamo crescere in santità in conoscenza la figura è uguale no Gesù cresceva fisicamente cresciamo anche noi facciamo vecchi e cosa dobbiamo applicare nella nostra vita vuol dire che noi dobbiamo applicare la parola di Dio e fare la sua volontà tanto più che abbiamo la parola scritta e non possiamo pensare che è la nostra testa che ci parla perché la confrontiamo con la parola di Dio è lo Spirito Santo dentro che è l'autore della Bibbia che prende i passi li porta nella nostra mente e ci fa comprendere cosa dobbiamo fare ora Gesù era obbediente a questo lui era nato sotto la legge Cristo ebbe una vita come Dio ma vero uomo la sua crescita umana intellettuale fisica spirituale e sociale era uguale alla nostra perché era uomo un'altra cosa ancora nel verso 51 ci dice che non è che lui perché era figlio di Dio passeva come voleva lui man mano era adottato seguito alimentato dai genitori leggiamo il verso 51 poi discese con loro andò a Nazareth e stava loro sottomesso sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Maria sapeva chi era per lui non era solo il figlio bello cocco di mamma lui era il figlio di Dio che gli aveva affidato per la cura e Dio provvedeva a quello che ci voleva perché i Maggi quando è che andarono per adorarlo portarono oro incenso e mirra prodotti di poco peso ma di grande valore che servivano per il sostentamento di Gesù quando andò in Egitto sull'asino lo potevano portare perché sennò come mangiava si dice che dato che Giuseppe era un carpentiere aveva delle amicizie di carpentieri in Egitto si trasferì lì da suoi amici però non poteva dipendere col bambino perché ti trovi qui che fai qui Dio gli aveva provveduto tutto quello che aveva bisogno attraverso questi elementi che di poco peso ma di grande valore ammesso che gli aveva portato un paio di chili d'oro con due chili d'oro si mangia un bel po' di tempo l'incenso anche aveva un valore la mirra anche se simbolicamente hanno un altro valore spirituale nella Bibbia però in quel momento servivano per sostenere Giuseppe Maria e Gesù perché non lavoravano o forse Giuseppe lavorava con qualche suo collega che aveva conosciuto nel trasferimento di materiali che si cedevano l'un altro restò sotto la guida dei suoi genitori Maria serbava nel cuore ed era incoraggiata per il servizio che Dio gli aveva affidato di generare e curare il Messia in Colossesi 2 2 2 Oh che sei grande Signore ti vogliamo benedire affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio cioè Cristo Maria man mano che cresceva il suo figlio serbava in cuor suo gli eventi del cammino di suo figlio e lo curava ma anche noi nella parte spirituale perché in lui ci sono i tesori della sapienza leggiamo il verso 3 è un contenitore speciale alleluia nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti a camasciandar alla camasciandar in quel bambino c'erano tutti i tesori della sapienza e della conoscenza divina perché lo Spirito Santo riposava su di lui ma che grande che grande come Dio aveva permesso di profetizzare attraverso il profeta Isaia 650 anni prima leggiamo in Isaia 11 2 quando è appassionante questa storia lo Spirito del Signore era stato scritto riposerà su di lui lo Spirito di saggezza ed intelligenza Spirito di consiglio e di forza Spirito di conoscenza e di timore del Signore Gesù cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini con il santo timore di Dio lui applicava quotidianamente i principi della parola di Dio che meraviglioso che sei Signore ora lo Spirito Santo riposa su noi può essere beh cosa abbiamo detto fino adesso è dentro di noi cosa abbiamo letto fino adesso come su Lui così su noi ora noi siamo il Tempio dello Spirito Santo che ti pare leggiamo insieme in primo Corinzi 3 16 non sai sorella non sai fratello non sai Cataldo che tu sei il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo lo Spirito di Dio abita in te lo sai sì sì proprio così noi siamo dei contenitori che ospitiamo il Signore Dio il Signore Spirito Santo la terza persona della Trinità oh che gioia Signore la terza persona della Trinità e abbiamo questo tesoro in vasi di terra che quando lo tocci di argilla leggiamolo insieme in secondo Corinzi 4 7 ma noi abbiamo questo tesoro quale tesoro la presenza dello spirito di Dio nella nostra vita in vasi di terra affinché questa grande potenza non è la nostra è di Dio e non è la nostra perché noi siamo terra noi siamo polvere il nostro spirito era stato macchiato il nostro spirito era stato staccato dall'avere comunione con Dio tutti perché tutti abbiamo peccato e siamo stati privati dalla gloria di Dio è come quando stacchi un filo dal condatore centrale non c'è più energia per tutte le altre stanze Dio ha fatto un'opera potente ma questa potenza è da Dio ma non so se stai riflettendo cosa siamo noi in Cristo Gesù tutte le altre categorie di questo mondo non trovo le parole se tu sei nata di nuovo se tu sei nato di nuovo tu appartieni a una categoria che non ci sono parole per descrivere l'elevamento che Dio ha messo dentro di te le parole umane il più grande specializzato parlatore paroliere non non può trovare signore aiutaci questa mattina questa potenza è di Dio e non è la nostra è da Dio che trasferisce la luce del Vangelo in un vaso fragile come me e come te ma tutto viene da lui ed è suo e proprio come dice il profeta Isaia nel capitolo undici verso due ora ascolta lo spirito del Signore riposerà su di lui due punti lo spirito di saggezza e di intelligenza spirito di consiglio e di forza spirito di conoscenza e di timore del Signore questo era su Cristo lo spirito santo che ha generato Cristo lo spirito santo che ha unto Cristo per il ministero è lo stesso spirito santo che è in te e che è in me che siamo nati di nuovo ciò vuol dire che lo spirito santo riposa sopra di noi la scrittura dice che noi siamo il tempio il contenitore riposa dentro di noi non so se ti fa senso questo che sto dicendo io penso che se tu hai sperimentato la nuova nascita la grazia del Signore in questo momento deve sorgere sorge da sé un' elevazione di gratitudine e di lode in un poco di terra come me come te Dio ha fatto tutto questo c'è da piangere di gioia su Cristo ora su noi parte degli attributi dello Spirito Santo come abbiamo letto e poi ci sono i doni dello Spirito Santo e poi c'è il frutto dello Spirito Santo che dimora dentro di noi che sopra di noi qual è il frutto dello Spirito Santo leggiamolo insieme Galati 5 22 o che sei grande Signore il frutto dello Spirito è amore gioia pace pazienza benevolenza bontà fedeltà mansuetudine autocontrollo e poi che dire nell'Epistola ai Corinzi i doni dello Spirito Santo dove sono nella Chiesa nei credenti chi è la Chiesa sono persone se tu sei nata di nuovo sei un membro del corpo di Cristo se tu sei nato di nuovo sei un membro del corpo di Cristo lo Spirito Santo Dio Gesù ha messo in te questo deposito tanto particolare tu sei l'amministratore di queste cose tutto è in noi e su noi abbiamo letto insieme in primo Corinzi 1 30 dice così leggiamo dobbiamo saperle queste cose e grazie ed è grazie a lui che voi siete in Cristo Gesù che da Dio è stato fatto per noi sapienza giustizia santificazione e redenzione e lui ha trasferito tutto questo in ognuno di noi per dire come dire la parabola dei talenti ci aiuta a comprendere per dire amministra questo per conto mio perché questo viene tutto da Dio come abbiamo letto in secondo Corinzi 5 7 dice che tutto viene da lui e per lui e da lui e serve per lui leggiamolo secondo Corinzi 5 7 4 7 chiedo scusa signore grazie ma ci rendiamo conto ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi questa grande potenza è da Dio che trasferisce la luce del Vangelo in un vaso fragile come me e come te ma tutto viene da lui ed è suo che noi dobbiamo amministrare nessuno di noi si può gloriare né pastori né credenti nessuno leggiamo il verso 29 di primo Corinzi 1 29 perché nessuno si vanti leggiamo il verso 30 nessuno si vanti di fronte a Dio ed è grazie a lui che voi adesso parla a noi perché la lettera è indirizzata alla Chiesa in Cristo Gesù che da Dio è stato fatto per noi sapienza giustizia santificazione e redenzione adesso leggiamo il verso 30 e 31 dice affinché come scritto chi si vanta si vanti nel Signore ognuno ognuno di noi per qualsiasi cosa nel nostro cammino nel nostro ministero nei nostri compiti nel regno è per il regno di Dio nessuno si può vantare quando senti qualcuno che si vanta aiutalo digli frate calmati un poco sore calmati un poco perché in qualche caso qualche credente si vantava lo Spirito Santo dice chi sei tu che ti vanti non vuoi riflettere lo traduco con parole diverse chi sei tu non l'hai ricevuto e se lo hai ricevuto perché ti vanti un verso che lo potremmo pure cercare la regia lo sa trovare giusto per chiarire quello che dice quando ti vuoi vantare di qualcosa fermati e quando vedi qualche fratello che si può sbagliare diglielo nel modo giusto fratello ma che cosa hai tu che non hai ricevuto e se l'hai ricevuto vuol dire che non è tuo Dio te l'ha dato perché lo devi sapere amministrare perché deve portare frutto è un talento che il Signore ti ha dato e che tu lo devi far fruttare questo è tutto anzi più ne hai più sei responsabile tu non puoi immaginare quanto mi sento responsabile ogni giorno di quello che faccio e non mi fermo certo che so che sono limitato però abbiamo una grande responsabilità perché a chi più ha più sarà dato ma che vuol dire perché sarà dato perché si muove perché non si ferma perché gli sta dietro perché non ci dorme sopra è un violento come dice Gesù è uno istancabile che non si ferma per compiere le opere che Dio gli ha affidato perché troviamo il piacere di fare quello che Dio ci dice buttiamo via gli orologi e andiamo avanti vita natural durante finché Dio ci dà vita e finché Dio ci dà forza ognuno di noi per qualsiasi cosa nel nostro cammino nel nostro ministero nei nostri compiti nel regno e per il regno di Dio quanto a me qui c'è un punto fermo che nessuno può passare oltre quanto a me lo dobbiamo dire noi quanto a me non sia mai signore aiutaci oh signore grande quanto a me lo dobbiamo dire insieme dai diciamolo insieme quanto a me dillo insieme con me quanto a me non sia mai che io prenda un pizzico di gloria che appartiene a Cristo è come rubarlo leggiamolo insieme perché è scritturale quello che dico io lo traduco così non stranamente però leggiamolo galati 6 14 leggiamo insieme ma quanto a me mettici il verde sopra così lo leggiamo insieme tutti quanti lo facciamo diventare nostro questo concetto questa cosa quanto a me frate che sei alla regia sore che sei alla regia tu che stai dall'altra parte io diciamolo insieme quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo ci possiamo solo rallegrare di lui che come uomo come noi ha fatto questa opera per noi è figlio di Dio lui è Dio venuto in carne però è iniziato da piccolo per fare la volontà di Dio e Gesù cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini vuol dire che lui applicava la parola di Dio e faceva la volontà di Dio per lo scopo per il quale era venuto dal cielo e lo faceva per noi fino a trent'anni è sottostato alla legge che l'ha completata tutta e dopo ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per noi come dire visto che non la puoi fare tu lo faccio io per te e ti do quello che tu non puoi avere oh che sei grande signore è cresciuto per adempire fare la volontà di Dio nato sotto la legge ha adempito cioè ha fatto tutto quello che la legge dice interpretata nel modo giusto i farisei pure sapevano la legge ma la interpretavano invece lui la interpretava nel modo giusto come figlio di Dio come si usa nel cielo perché lui veniva da lì e sapeva il concetto che era radicato nel cielo perché la parola di Dio è stabile nel cielo alleluia gloria al Signore e ci ha portato questo regalo infatti in Matteo 5 17 leggiamolo insieme cosa dice non pensate che io sia venuto per abolire la legge a chi discuteva insieme con lui o i profeti io sono venuto non per abolire la legge ma da quanto ero piccolo l'ho portata a compimento tutta nella mia vita l'ho applicata tutta sacca massita ralacca massata non sono venuto meno non mi sono lasciato trasportare non mi sono lasciato andare e infatti quando doveva venire il nemico Satana il principe di questo mondo della rete malefica che ha creato della ragnatela malefica che ha creato ma lui non ha niente in me tra poco verrà per uccidermi ma lui non ha niente in me io non gli ho ceduto neppure un'unchia durante il percorso della mia vita lui porterà destinazione quello che deve fare ma perché mi odia ma perché odia mio padre perché odia Dio e perché odia l'umanità e perché odia anche te sorella odia anche te fratello perciò noi dobbiamo stare attenti signore aiutaci e si è costituito come uomo ha fatto uno scambio visto che tu lui ha ragionato in questo modo visto che tu non ce la fai Cataldo Felice Peppina come ti chiami l'ho fatto io per te signore grazie ha fatto uno scambio visto che tu non ce la fai scambio la mia vita per la tua come uomo faccio questo uomo con con tutti i dolori con tutta la volontà di uomo come uomo gli inficcavano pensa solo che ci penso i chiodi quando un dito nelle mani così faccio io per te leggiamo come uomo così comprendiamo in primo Timoteo 2 6 lo leggiamo al contrario no leggiamolo così nel verso 5 c'è leggiamo dal verso 5 Cristo Gesù uomo vedi qua oh che bella la parola del Signore ci spiega tutto infatti c'è un solo Dio un solo mediatore fra Dio e gli uomini Cristo Gesù uomo lui ha operato come uomo sottomettendosi a Dio in tutto che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti questa è la testimonianza che abbiamo che lui ha fatto duemila anni fa Signore grazie e in questo modo ci ha riconciliati a Dio con Dio ci ha fatto fare pace con Dio in secondo Corinzi 5.21 guarda cosa ha fatto guarda guarda un po' colui che non ha conosciuto peccato che ha vissuto la sua vita fino a 33 anni e mezzo senza mai peccare Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giusti di Dio in lui ha travasato si è preso il peggio e ci ha dato il meglio oh alleluia ma che sei grande Signore e Dio ha imputato ha incolpato le mie colpe e le tue colpe per colpa mia per colpa tua per colpa tua per colpa mia ha incolpato lui è un' ingiustizia giusto leggiamo il verso 19 ma Dio l'ha fatto per salvare noi guarda un po' infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo non imputando a noi non mettendo su di noi le nostre colpe non accusando noi non ha incolpato noi e ha messo in noi la parola della riconciliazione cosa ti sto dicendo io stamattina noi sono incluso io che ti parlo questo è un appuntamento divino è Dio che ti fa sapere il messaggio tu magari pensi ma tu chi sei perché non mi conosci e forse è la prima volta che mi vedi ma tu chi sei leggiamo un'altra volta questo verso adesso ti dico chi sono infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo gli esseri umani non imputando a me e a te le nostre colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione ha messo in me la parola della riconciliazione tu stai pensando ma tu chi sei è la prima volta che ti vedo forse sei all'altra parte del mondo forse sei in Russia che abbiamo aperto i canali in Russia forse sei nel Sud Africa che c'è un altro canale nel Sud Africa forse sei nel Nord Africa forse sei in Europa forse sei negli Stati Uniti forse sei nella Nuova Zelanda forse sei nell'Australia perché ci siamo forse sei nel Sud America ci siamo grazie al Signore e forse mi vedi da là e mi dici ma tu chi sei adesso ti dico chi sono che sei grande Signore il Signore Gesù ha fatto lo scambio e io sono qui per dirlo a te perché cinquantasette anni fa Cristo ha toccato la mia vita ho sentito la pace di Cristo mi ha salvato mi ha battezzato nello Spirito Santo mi ha unto e mi ha fatto sentire nel cuore per dire per dire annuncia ai tuoi fratelli esseri umani che io ho mandato mio figlio per fare questa opera per quello che tu non potevi fare ho mandato mio figlio in Giovanni 3 16 leggiamo l'unico che avevo ha capito chi sono io sono un riscattato un salvato per grazie perché Dio ha tanto amato l'essere umano che ha dato il suo unigenito figlio l'unico che aveva affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna forse domani non mi vedi più non lo so ma oggi ti voglio ripetere questo quello che dice la scrittura leggiamo un'altra volta insieme secondo corinzi 5 21 colui che non ha conosciuto peccato egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui leggiamo il verso 19 quanto sei grande Signore infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé l'essere umano non imputando a noi uomini le nostre colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione leggiamo il verso 20 per cortesia sei grande Signore noi dunque ogni credente ogni credente chiamato facciamo d'ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro ti supplico forse a me non mi vedrai mai più non lo so ma ti supplico nel nome di Cristo riconciliati con Dio perché Lui ha già preparato tutto ha pagato il prezzo per te e Gli ti offre la grazia in questo giorno quello che tu non potevi mai fare Lui l'ha fatto per te e ti chiama ti invita gratuitamente allora andiamo alla conclusione noi credenti abbiamo una grande responsabilità leggiamo insieme in Giovanni 14 26 ti voglio riportare qualcosa che è molto importante abbiamo iniziato così Giovanni 14 26 no chiedo scusa prima leggiamo Luca 12 12 una ripassata perché lo spirito santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovete dire in Giovanni 14 26 leggiamolo un'altra volta ma il consolatore lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto leggiamo il verso 17 dello stesso capitolo lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede non lo conosce voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi dobbiamo fare secondo lui ci guida leggiamo il capitolo 16 verso 13 quando però sarà venuto lui lo spirito della verità egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire vedi cosa abbiamo lui ci parla ma noi dobbiamo essere ubbidienti se lui ci parla e noi non ubbidiamo siamo credenti formali pronti per essere giudicati guarda cosa dice Gesù nel capitolo 12 di Matteo verso 31 dobbiamo stare attenti perciò io vi dico ogni peccato sarà perdonato ma i peccati contro lo spirito santo non saranno perdonati non ce li perdona il signore Gesù ci perdona tutto perché il suo sangue lava a noi li dobbiamo confessare quando sei disubbidiente allo spirito santo è Gesù che ti parla attraverso di lui quando non fai le cose che ti dice devi chiedere perdono al signore Gesù Gesù dice ti parlo del concetto biblico cosa dice egli vi dirà tutto quello che udrà e vi parlerà da parte mia quando lo spirito santo parla al tuo cuore nella tua coscienza e Gesù che per mezzo dello spirito santo ti parla se tu non lo fai devi andare da Gesù e dire signore lavami col tuo sangue perché non ho risposto Gesù non verrà mai fisicamente vicino a te ti tocca la spalla e dice fai questo è lo spirito santo dentro di te che parla alla tua coscienza egli prenderà del mio e ve l'annuncerà Gesù ti parla attraverso lo spirito santo se tu non ubbidisci vai avanti a ruota libera vai avanti dove ti dice la testa vai avanti dove ti porta il diavolo e il Signore vuole che noi non siamo dei discepoli come Giuda Giuda lo seguiva ma non ci stava con la testa stava con la testa un'altra parte però che fine fece fisicamente fece una brutta fine ma spiritualmente è stato perduto per l'eternità tu dici ma perché Giuda che fine fece che fine fece e beh una brutta fine non lo auguro neppure al cane e gli dopo aveva un rivolso nell'anima nello spirito nel cuore che si andò ad imbiccare e prese la cinta della sua veste la legò a un albero e per avere il pendio da poter scendere si mise sopra a una strada che passavano carri si legò per impiccarsi fece in tempo a morire e la cinta si ruppè e andò a finire in mezzo alla strada c'era un carro che passava e la discesa sul pendio sotto il monte Golgota non fece in tempo a fermare il carro che fine fece leggiamo in atti 1 18 neppure al cane glielo auguro il mio cane non preferisco che faccia la morte di giù egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità poi essendosi precipitato si squarciò il ventre e tutte le sue interiore si sparsero hai capito perché è scritto questo qui perché questa è la testimonianza che videro i discepoli che avevano lasciato la croce che avevano seguito Gesù e si erano allontanati perché era restato solo Giovanni mentre camminavano lungo la strada trovarono quest'uomo così ma chi è questo oh questa è Giuda mamma mia che fine che ha fatto viene riportato negli atti degli apostoli perché perché è un ricordo tremendo oggi il Signore ci ha parlato noi dobbiamo imparare ad essere ubbidienti per fare la volontà del Signore altro che cia 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 alziamo la mano no alzare la mano davanti al Signore è l'inizio dopo dobbiamo continuare la grazia è il biglietto di entrata ma dopo dobbiamo mettere in pratica quello che il Signore ci dice la grazia resterà sempre però noi non dobbiamo approfittare della grazia perché la grazia bondi perché la grazia abbonda noi facciamo come quelli dell'ipergrazia continuo a peccare perché dove abbonda il peccato abbonderà la grazia ancora di più come dire il Signore te ne dà sempre di più no no la grazia ti aiuta a superare i momenti che non ce l'hai fatta sei venuto meno sei caduto e ti sei trovato in un momento particolare Signore ma non che tu dici tanto ho la grazia posso fare quello che mi pare perché tanto io poi ho la grazia no la grazia non funziona così Signore aiutaci perché questa è un'interpretazione diabolica e chi vive in quel sistema si troverà davanti alle porte dell'inferno ma gli saranno aperte le porte dell'inferno ma non quella del cielo Signore ti ringraziamo per la tua parola io non trovo parole per aggiungere qualcosa a quello che il Signore mi ha dato questa mattina ero molto preso nel dire fin dalla mattina presto Signore dimmi quello che è il messaggio che devo dare oggi e questo ti ho dato io confido nello Spirito Santo che continui a farti comprendere quanto è importante quello che abbiamo detto perché ci vuole una svolta una svolta seria in molti credenti superficiali molti credenti formali dobbiamo rivedere la nostra vita ci vuole un vero ritorno a Cristo lui è sempre con le braccia aperte per riceverti non ritardare perché lui continua a parlare preghiamo insieme il Signore e ringraziamolo e tu che hai capito comincia a rimettere ordine nella tua vita comincia a dire voglio veramente cominciare a cambiare oggi perché più chiaro di così il Signore come ci deve parlare preghiamo insieme Signore ti ringraziamo per la tua parola grazie per il grande privilegio che ci dai perché ci hai sopra levati al di là di qualsiasi altro pensiero ed ora Signore aiutaci a camminare insieme con te ad essere guidati dallo Spirito Santo proprio come abbiamo cantato per vedere la nostra vita ripiena influenzata e guidata dal tuo Santo Spirito te lo chiediamo tutti insieme oh Dio nel nome di Gesù Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org